Ben ritrovati a Camper Vicenza, ben ritrovati a Camper Vicenza, ma anche no, in America questa settimana occupiamo il nostro spazio per occuparci, occupiamo per occupare il nostro incontro e ora invece il 23esimo del nostro incontro, Barra Ruggero scusa, c'è veramente un odore terribile qua dentro, Camper Vicenza ritornerà mercoledì prossimo alle 18.50 alle 23.30 il suo gioco, 143 per una giornata propriziazione, interessante delle buone pratiche, delle buone notizie, arrivederci!